i signori io sono lorenzo e questo è il mio canale esperton e benvenuti bene oggi guardate qua le due auto più vendute in europa la mia captur e la dacia sandero che ho provato pochi giorni fa e che ringrazio sempre miglior auto di sastino di livenza per avermela data e per provarla perché voglio farvi questo confronto tra queste due auto così diversi ma così simili perché te lo ripete la meccanica è uguale le dimensioni siamo lì differenza di 13 centimetri perché la captur 423 contro i 4 e 10 della sandero stepway perché mi è arrivato un commento sulla recensione che fatto della sandero che mi diceva ho risparmiato quasi 5.000 euro ed ho preso la sandero perché al momento non potevo permettermela e quindi quali sono le differenze fra le due auto perché spendere 5.000 euro in più a parità di allestimento in questo caso non abbiamo lo stesso allestimento ma ci sono prodotti che hanno l'allestimento della captur e non risparmiare quei 5.000 euro che possiamo investirli in qualcos'altro e qui adesso ci sono due strade ci sono le persone che dicono quelle più ama cioè vuoi permettere l'estetica della captur quanto più bella è l'immagine della captur e i materiali che ci sono all'interno dall'altra parte ci sono le persone che sono più concrete che hanno più diciamo guardano più al sodo e dico questa mi fa lo stesso servizio della captur mi risparmi 5.000 euro e l'investo per qualcos'altro oppure al momento non posso permettermelo qui ditemi voi sui commenti cosa ne pensate perché è come prendersi un bel maglione da 20 euro e un maglione da 200 euro mi fa la stessa funzione alla fine bene quindi adesso andiamo a vedere un attimo esteticamente questa è la versione stepway quindi la versione rialzata di ben 4 centimetri ha i passaruota rinforzati così che vedete le plastiche per non graffiarla come anche la captur questa è una berlina che è diventata una crossover grazie all'estetica grazie ad alcune accortezze bene allora se andiamo a vedere l'altezza da terra per quanto riguarda la captur siamo a 26 centimetri per quanto riguarda la sandero siamo a 26 centimetri stessa altezza da terra la lunghezza della captur torno ripeto sono 4 metri e 23 contro i 4 e 10 l'altezza vedete anche voi è un po più alta la captur però qui abbiamo anche le barre porta tutto dove possiamo girarle di 90 gradi e metterli porta pacchi poi abbiamo fari a led di posizione sia sulla captur che sulla sandero fari anna baglianti tutti e due a led in questo caso qua sulla captur abbiamo anche i fari abbaglianti a led di qua abbiamo dei fari alogeni la sandero ha i fendi nebbia la captur non ce li ha neanche su richiesta proprio non esistono i fari fendi nebbia per quanto riguarda la captur esteticamente ditemi voi quale vi piace di più a mia moglie piace molto di più questa qua perché lei guarda anche l'estetica dice che questa ha una linea completamente che gli è sempre piaciuta poi andiamo a vedere gli interni lo spazio il bagagliaio e tutto quello che ci possono dare delle differenze bene adesso andiamo a vedere la differenza tra i due bagagliai di un'auto e dell'altra a vedere anche se per quanto riguarda per una famiglia può andar bene sia questo prodotto questa auto che questa e così misuriamo un attimo che le misure reali sono sempre le cose migliori da fare bene allora di larghezza questo bagagliaio fa un metro e 03 per una profondità no andiamo a vedere subito la captur quanto fa così ci restano più a mente le differenze 103 per quanto riguarda la sandero 102 per quanto riguarda la captur la profondità in questo caso qua 67 centimetri per la captur mentre per la sandero siamo a 68 e mezzo 68 per la precisione un'altezza della capelliera di 40 contro i 40 anche per quanto riguarda la captur i bagagliai siamo là però c'è un trucco perché sia la captur che la sandero hanno la possibilità di alzare il fondo e recuperare altri 16 centimetri cosa che anche la captur vedete che una cura del dettaglio ad esempio della sandero è questa quando io alzo capelliera mi si ferma qua non mi cade giù e se la tolgo posso metterla anche sotto c'è lo spazio per metterla nella captur però c'è un altro trucco che ho già fatto vedere nelle mie recensioni per chi mi segue che i sedili sono scorrevoli quindi posso recuperare altri 16 centimetri quindi se volete fate così io premo questa leva e mando avanti i sedili altri 16 centimetri recuperati i bagagliani logico che se mando avanti dal tutto di 16 centimetri non ho più lo spazio per sedermi dietro ma se devo non ho bambini non ho nessuno dietro posso lasciarlo lì tranquillamente vedete che anche qui abbiamo un doppio fondo e la capelliera possiamo metterla sotto qua scusate capelliera il divisorio di ripiano bene adesso andiamo a vedere un attimo gli interni di una e anche dell'altra ah volevo farvi vedere le auto viste da dietro vedete fari sempre a led anche per quanto riguarda le frecce per la captur mentre in questa cosa qua abbiamo i fari che sono allogeni e affilamento per le frecce poi esteticamente vi lascio guardare a voi e dite voi le differenze comunque stiamo parlando di auto che hanno lo spazio per una famiglia intera secondo me vedete che anche lo scarico in questo caso qui sulla captur è uno scarico cromato che esce dall'altra parte neanche non si vede volevo vedere un attimo l'altezza da terra 33 centimetri e qui abbiamo in 35 centimetri tranquillamente logico che poi le differenze di prezzo che parlavamo prima sono anche qui esteticamente qua abbiamo tutta la miera vedete mentre nella captur è tutto più ben rifinito qui tutta plastica abbiamo le luci a led anche sulle targhe sono questi i dettagli anche internamente dentro tutto in moquette però ad esempio la sandero ha quattro portagansi quattro portaborse cosa che non ha la captur è comunque rifinita anche lei sempre in moquette ed è anche ben rifinito ho visto suv del prezzo molto più alto con gli interni tutti in plastica non rifiniti così bene bene guardiamo un attimo gli interni che conoscerete già perché ho fatto la recensione sia da sandero che della captur però è giusto per notare certe differenze allora qui siamo dentro la sandero come vedete abbiamo la nostro cruscotto che è comunque mezzo analogico mezzo digitale con un piccolo quadratino qui un display dove andiamo a vedere alcune informazioni con le lancete per quanto riguarda sia contro giri che contro chilometri non abbiamo il display in questa versione qua ma adesso vi metterò delle immagini della versione extreme che qui al mega nav da 7 pollici il climatizzatore in questo caso è manuale come vedete ma esiste anche la versione come nella captur quello automatico che vi lascio sempre sotto qui delle immagini della versione extreme che è quella più completa poi una cosa che manca di sicuro alla nostra sandero è la plafoniera per i posti posteriori mentre qui abbiamo una plafoniera non divisa in tre zone ma un'unica plafoniera non abbiamo abbiamo lo specchietto ma non è retroilluminato a differenza che dopo vedremo sulla captur abbiamo tutte le maniglie per appenderci danni dal lato guidatore i sedili sono sempre belli mi piace anche questo tessuto che c'è qui davanti molto morbido e che esteticamente almeno a me piace le bocchette dell'aria sono con questa riga in ottone che molto simpatica cambio a 6 manci in questo caso e poi tanti vanni portaoggetti per mettere il cellulare per mettere le nostre chiavi un svuota tasche ce ne sono fin che vogliamo qui abbiamo vanno portaoggetti bello capiente e i sedili mi sembrano belli comodi e anche ben fatti come tessuti bene adesso passiamo nella captur a vedere un po come è fatta bene questi invece sono gli interni della captur logicamente non abbiamo plastiche rigide come nella nostra sandero ma abbiamo plastiche tutte morbide soft touch e quindi anche le vibrazioni sono al minimo abbiamo l'impianto della Bose quindi un impianto audio nettamente superiore per quanto riguarda vedere tutte queste cromature le rifiniture il nostro cassetto è abbastanza grande qui abbiamo una ricarica wireless del cellulare doppia presa usb una presa aux se vogliamo collegare qualche accessorio le manopole del climatizzatore sono uguali a quelle della sandero perché fa un parte del stesso gruppo e poi tutte queste cromature anche i sedili come vedete mezza pelle e mezzo tessuto ma anche nell'extreme c'è questa differenza qua abbiamo la plafoniera anche dietro ognuno ha la sua luce una due tre luci poi abbiamo la doppia plafoniera anche qui ognuno ha col suo luce tutte e due hanno la chiamata di emergenza il specchietto che abbiamo qui è retroilluminato da questa luce che abbiamo qua sopra non so se si vede eccoci qua qua abbiamo la luce per l'illuminazione quando mi guardo allo specchio il cruscotto è completamente digitale a differenza della sandero il volante è molto simile con i tasti solo che più ben rifinito tutte le cromature tutto quello che segue una cosa che ho notato ieri sera è che nella capture come vedete abbiamo tutto retroilluminato qua e poi ci sono delle luci a led mentre nella sandero le luci per quanto riguarda l'alza cristalli elettrici da parte del passeggero e posteriore sono spenti non hanno le luci quindi non si vedono di notte dove sono gli alza cristalli elettrici poi per il resto è tutto molto simile diciamo che componenti della capture e della sandero della duster eccetera sono sempre gli stessi anche le manopole qua sono tutto uguale e questo è per quanto riguarda il plafoniere per l'illuminazione magari al momento dell'acquisto non andiamo a vedere ma poi quando ci serve accendere della luce perché al bambino è caduto il gioco eccetera almeno qui ce l'abbiamo sono due auto comunque tutte e due molto spaziose caso andate a vedere le recensioni che ho fatto di uno dell'altra anche come abitabilità posteriore è veramente molto molto valido bene scendiamo per tirare le conclusioni bene quindi siamo usciti dalle auto ve le ripropongo qui guardate voi quelle vi piace di più perché qua anche un fattore estetico ed immagine come dicevamo all'inizio siamo stesso motore stessi consumi circa qua consumo un po di meno la sandero perché pesa anche 150 kg in meno un po più rumorosa all'interno meno insonorizzata di sicuro della capture in questo caso qua c'è da decidere mi riservo qui bei 5.000 euro per qualcos'altro oppure voglio l'estetica più bella e voglio una macchina rifinita migliore questo sta a voi decidere signori se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al mio canale e attivate il tasto delle notifiche grazie a tutti e arrivederci